Inside Vanoli Cremona che ha fatto le fortune di tante squadre di provincia vorrei capire quali sono i comuni denominatori di queste squadre che lei allena cosa hanno in più, cosa danno di più, cosa lei vuole instillare a queste squadre proprio come denominatore comune Prima di tutto bisogna capire in che momento arrivi nella città dove poi devi allenare Secondo, assorbire prima possibile l'identità e la storia sia culturale sia sportiva della squadra proprio per poter avere un osmosi con la città, con la dirigenza e con tutte le persone che poi frequentano il basket Terzo, dare tutti se stessi per il bene del basket, in quel caso della città dove allenare Quarto, mettere come caposaldo l'uomo la persona da motivare e attraverso la quale essere motivato Coach Pancotto è un decano degli allenatori, nell'accezione più positiva del termine che ha visto passare diverse generazioni e anche ha visto mutare la pallacanestro Vorrei capire, soprattutto dal punto di vista della gestione della squadra Prima con due stranieri, adesso con sei, sette stranieri Cosa cambia? Come lei ha impostato il suo lavoro in funzione del cambiamento della pallacanestro? Proprio dando forza al discorso dell'uomo Non ho mai guardato se erano italiani, americani o bianchi o di coloro Ho sempre guardato come poter motivare l'uomo e di motivarlo nel momento storico in cui questo accadeva Negli anni 90 c'era un sociale che girava intorno, negli anni 2015 c'era un altro Negli anni 90 c'era il VHS, adesso c'è internet, c'è l'iPad Quindi anche il livello di comunicazione attraverso la quale interagivi con le persone era importante Ma quello di rimanere sempre uomo, quello di guardare sempre alla figura dell'uomo Per essere motivato e per motivare è stato fondamentale Una domanda che mi sorge spontanea ma soprattutto viene da lontano In Italia si usa spesso etichettare gli allenatori L'allenatore della grande squadra, di provincia Prima di tutto perché si etichetta? Nel senso, vorrei capire proprio da un allenatore cosa pensa di questo aspetto puramente italiano Di etichettare, io penso che un allenatore è un allenatore a 360 gradi a prescindere da qualsiasi squadra E vorrei sapere lei cosa ne pensa di questo aspetto Sì infatti ci sono etichette che vengono date per pigrizia Certe vengono date per denigrare, certe vengono date per creare interesse su altre vicende, su altre persone Però quello che mi piace, avendo vissuto molto, avendo studiato molto e seguitando a farlo Quello che succede nel paese anglosassone Vediamo negli Stati Uniti che persone e allenatori che arrivano ai 70 anni che vengono considerati, rispettati Noi in Italia quando arriviamo a 45-50 siamo già belli che cotti, siamo minestre riscaldate Allora mi viene in mente, ma se un'azienda dopo 35 anni in cui vive e vive sempre ad altissimo livello Viene sempre più considerata e rispettata, come mai negli uomini questo non avviene? Ecco questa è la considerazione più banale Per cui dobbiamo vincere la pigrizia, come quando si dice La squadra va male, non si possono cacciare 10, si caccia 1 Pago il biglietto, posso fare e dire quello che mi pare Cioè sono diventati degli stereotipi che bisognerebbe cambiare Anche perché il mondo è cambiato Si volge a vedere una partita, uno sport per vedere lo spettacolo Per partecipare, per godere, per criticare, per entusiasmarsi, per emozionarsi Non con il biglietto già in tasca o con su scritto quello che devi fare Cioè non si è protagonisti, bisogna lasciarsi andare dalle emozioni Però delle volte, o molto spesso, queste emozioni sono stereotipate Da canoni che vengono dal passato Che non si ha voglia per pigrizia di volerli cambiare Prutto quando lo si fa per interesse di parte Perché si vuole denigrare una persona per metterne avanti a un'altra E questa è una cosa che non va Perché poi l'uomo, soprattutto l'allenatore, lo fa il marciapiede Lo fa quello che fa ogni giorno, la quotidianità Per cui se tu ogni giorno vali sempre o vali sempre di più Non è l'età che deve cambiare queste cose Anche perché abbiamo visto nei vari aspetti sociali Ci sono persone che si affermano dopo una certa età Per cui sconfiggiamo questi stereotipi Diamo il criterio della meritorietà Ci sono persone giovani che valgono tantissimo E dalle quali bisogna prendere tantissimo Ci sono persone meno giovani che hanno dato tanto Ma che hanno ancora forza, energia, amore e passione Per poterlo fare ancora Per fortuna c'è ancora una nicchia importante Pancotto, Sacchetti, Recalcatti Quindi ancora tenete duro Sarebbe banale Perché poi Obradovic non è che sia tanto distante dalla nostra O Ivkovic ha 72 anni Credo che non sia tanto banale Ma questo non vorrei che fosse un discorso per chi ha superato certi anni Vorrei che fosse invece capito che Chi vale deve andare avanti Chi non vale non dipende dall'età È come per il giocatore Cioè non è il cartellino che c'era prima O se sei italiano, americano o comunitario Chi vale deve andare avanti Oggi questa è una società che sempre di più deve cercare la meritorietà C'è sempre un aspetto dove se tu sei migliore devi andare avanti E dopo tanti anni Per quello che mi riguarda 31 Poter riuscire sempre a competere con quelli più giovani Che sono uno stimolo meraviglioso C'è una categoria di giovani veramente stimolanti Ecco, questo è l'aspetto competitivo Questo è l'aspetto anche per migliorarsi Che non smetterà mai di essere Cesare Pancotto Praticamente architetto Filosofo Timoniera appunto della Vanoli Cremona Vorrei capire A questo punto entriamo Nei meandri della sua squadra Quali sono Le vere fondamenta Della sua squadra Di quella squadra che sta facendo Benissimo nella Serie A Allora siccome mi reputo Un attore di nicchia Un artigiano della Palla Canestro Ho cercato di trasmettere sempre questi valori Non potendo essere una cosa Abbiamo cercato Qui c'è la condivisione con la società Con tutto quello che è Lo staff dirigenziale e tecnico Abbiamo cercato di dare una forte identità Alla squadra Quindi abbiamo scelto Volutamente di fare un percorso con degli italiani Ma senza demonizzare gli altri È solo un diritto È un criterio di scelta E quindi questo è stato il primo assunto La seconda cosa Dovevamo dare forza alle idee Al coraggio e al lavoro E quindi siamo andati avanti Attraverso questo Dietro a tutto questo c'è il lavoro C'è il lavoro C'è la voglia di sacrificarsi C'è un gruppo manageriale C'è uno staff tecnico Che lavora quotidianamente Con grande entusiasmo E grande energia C'è un gruppo di giocatori Straordinariamente bravi Ad aver capito il momento della società E aver capito le possibilità Che questo momento poteva regalare Si stanno sacrificando Ci hanno regalato non solo risultati Ci hanno regalato qualità di gioco Ci hanno regalato la consistenza E il rispetto del mondo della palla canestro Per cui dietro a tutto questo ci sono Idee, lavoro e coraggio E la continuità di ogni giorno La quotidianità L'entusiasmo della quotidianità Comunque partendo Come ha detto lei Da un nucleo italiano importante Che aveva anche voglia di riscattarsi Non ultimo così E dopo ricamati attorno a una serie di americani Diciamo che sono il complemento forse Del progetto Noi abbiamo seguito delle linee parallele Siamo partiti su che cose Su chi volevamo costruire E questo ha un nome Si chiama Vitali Poi abbiamo costruito intorno a Vitali Una squadra Che potesse interagire La riteniamo una sinergia Questa squadra non una somma Per cui i tanti italiani Che abbiamo avuto Prima che arrivassi così Avevano o l'entusiasmo O la fame O la rabbia L'entusiasmo di chi veniva Dalle serie minore La rabbia di chi Magari era retrocesso E insieme a questo Abbiamo cercato di inserire Dei giocatori americani Che potessero darci energia E fisicità e atletismo Visto che il basket di oggi Non può farne a meno Poi avevamo seguito un percorso Veramente prima americano Per colmare Ma nei nostri sogni C'era sempre Marco Cusini Perché Marco Cusini? Perché lo vedevamo come sinergia Con Vitali Poi perché Vitali Cusini Essendo esperti Ed essendo rispettati Nel mondo della balla canestro italiana Ed oltre Potevano essere garanti Per tutto il gruppo Per farli crescere Noi avevamo un gruppo di giovani Esuberanti Poco esperti Molto giovani Avevamo bisogno di qualcuno Che gli educasse Dentro lo spogliatoio E negli allenamenti Per farli crescere Quelli che una volta Si chiamavano i figli di Dovevano essere Come dire Perspicaci ed aiutare E questo è un po' Quello che sta succedendo Abbiamo iniziato un percorso Siamo a metà Abbiamo solo tracciato Un solco Che è arrivato Fino alla girone di andata Adesso abbiamo bisogno Però di far crescere Di alzare il livello Anche perché Nel girone di ritorno Tutti i livelli saliranno Sia quelli dell'intensità Dell'aggressività I livelli tecnici I livelli fisici I livelli motivazionali Dobbiamo raschiare un barile E poter portare questi valori Dentro al campo Dalla prima di ritorno A proposito Parliamo di sogno Marco Cusin Viene spontaneo Collegare questo sogno Arrivato a Cremona Con delle ambizioni Ovviamente Onesto coach Il patron Aldo Vanoli All'inizio si parlava Di salvezza Oggi dovete pretendere Qualcosa di più Oggi Quello che è cambiato È la posizione di classifica Perché siamo tra le poche squadre Che non hanno cambiato giocatori Quindi Vuol dire che non è Ci raffrontiamo solo Con quello che siamo diventati Ci dobbiamo confrontare Anche con quelle che sono diventate Le altre formazioni Molte di queste All'inizio dicevano Che avevano un budget ridotto Oggi magari siamo noi L'ultima squadra A avere il budget ridotto Ma sta nella natura Della società Proprio Vanoli E la società Ha sempre stabilito Qual era il percorso Noi vogliamo creare Le fondamente Per cui La permanenza della Serie A È un importante elemento Poi essersi tolto Ad aver raggiunto Un sogno Come quello Della partecipazione Alle final eight È un premio Al percorso Un premio Alle idee Ma non cambia Non cambia il percorso Ma da questo Vuol dire Che non esineremo Nessun sforzo Per poter vedere Dove portare Al massimo livello Questa potenzialità Perché ci permetterebbe Di capire Cosa questo gruppo È capace Fin dove può arrivare Fin dove può ripartire Per il futuro Perché poi Una società Non è legata A un risultato parziale Perché se ci fermassimo Oggi A quello che abbiamo raggiunto Rovineremo invece Tutto il percorso Che abbiamo fatto Fino adesso Siccome è la prima volta Che a Cremona Si parla di final eight Si è sempre parlato Della permanenza Prima bisogna creare La cultura La vittoria Bisogna sedimentarla Bisogna dargli continuità E poi magari Vedere dove si può arrivare Lo dico anche perché Per le esperienze passate Di tante squadre Ci sono dei percorsi Sino solidali Tante squadre Che sono arrivati Nell'onda più in alto E poi sono cadute Violentemente Ecco quello Che cerchiamo di fare Nel possibile È di cercare Di dare il più in alto Possibile di questa onda E poi di mantenersi Su questa onda Compatibilmente A quelli che sono Gli sforzi Che quotidianamente I vanoli E la società fanno Adesso Inside Questione tecnica Parliamo del Pick and roll Magistrale Cousine Vitali Anche qua Vorremmo capire Cosa c'è dietro Come viene allenato Questo pick and roll Tanto vituperato Però tanto utile Alla sua squadra Come viene allenato E dove stanno i meriti Del timing Del modo di eseguirlo Da parte dei due Attori protagonisti E dove invece C'è un lavorio In palestra Per farlo Dopo Esplicitare In maniera così Perfetta E puntuale Prima di tutto Lavoriamo quotidianamente Sui fondamentali individuali Si è sottoscritto Sia l'assistente allenatore Che l'epore Che è un bravissimo allenatore Lavoriamo costantemente Quotidianamente Sui fondamentali Perché non c'è età Per il quale Un fondamentale Non possa essere migliorato Anche perché Pensare Il pick and roll Di D'Antoni E Meneghin Pensare oggi Il pick and roll Di Vitale E Cousine Si resta sempre Sullo stesso fondamentale Ma è cambiato L'atletismo E la risposta Sia per l'attaccante Che per i difensori Quindi prima di ogni altra cosa I fondamentali La seconda cosa È la ripetitività Di quello che vogliamo fare Perché Contro il pick and roll Che poi è Portare un blocco Sull'uomo con la palla Per creare un vantaggio La risposta della difesa È di negare Questo vantaggio E ci sono vari momenti Può essere fatta Una difesa molto aggressiva Con lo show Potrebbe essere fatta Una difesa di contenimento Con il flat Potrebbe essere fatta Una difesa ancora più tattica Per spostarti sul lato E quindi La quotidianità Sta nel ripetere Costantemente Le varie situazioni Aumentando sempre Il tipo di difficoltà E cercando di verificare Come ne veniamo fuori Poi Siccome sono Gli allenamenti È il momento Del miglioramento La partita È il check Da ogni partita Cerchiamo di capire Quelle che sono state Le difficoltà E cerchiamo di Svilupparle Di superarle Se sono state tale Per migliorare gli aspetti In tutto questo C'è l'apporto costante Dei giocatori Ma il piccarò Non è solo Tra cousine vitale Piccarò Un lavoro di squadra Un lavoro a cinque Quindi quello che è Lo spazio È l'allenamento quotidiano Quindi la perseveranza Ritengono il basket Uno sport di ripetizione Se tu ripeti bene La mente Memorizza il bene E ripeti il bene Se tu memorizza il male La mente Memorizza il male E tu ripeti il male Quindi nove errori Diventano una cosa vera Ecco noi invece Stiamo cercando Di far diventare Nove cose buone La cosa vera Quindi Non è essere pignoli È responsabilizzare I giocatori Su questo aspetto E loro lo hanno capito Cioè non ripetiamo Per punire Ripetiamo per migliorare Quindi il costante Miglioramento La costante ricerca Del piccolo particolare Perché più si va avanti Più diventa Specializzato Il movimento Vedere le partite Di agosto Vedere le partite Di gennaio C'è una differenza Sostanziale E vedere quelle Che ci saranno Ad aprile Ancora più sostanziale Quindi questo Ci permette Di analizzare Quotidianamente Il particolare Per migliorarlo Perfetto Chiudiamo Questa preziosa Chiacchierata Con il coach Pancotto Naturalmente Parlando di Final Eight Lei ha parlato Di un percorso A lungo termine Come interpretate Questo step Delle Final Eight Come Tra virgolette Un punto di arrivo Nel senso Giocarvele a tutti i costi O come Un passaggio Un passaggio Un percorso Un mini step Di crescita Verso Il finale Di stagione Ma Primo come premio Per tutto quello Che è stato fatto Dalla società Dai giocatori Dallo staff E coinvolgiamo anche I nostri I nostri tifosi Secondo Visto che Avverrà in febbraio Per capire Dove ci troviamo In febbraio Anche perché Le Final Eight Sono un campionato Nel campionato Nel campionato Hai 30 partite Hai tempo di recuperare Quindi la mentalità È quella di Dare tutto in ogni partita Ma hai la possibilità Di recuperare Nelle Final Eight Hai una partita Non hai la seconda Per fare la seconda Devi vincere La prima Il livello Di difficoltà Di attenzione Aumenta Ai massimi Aspetta perché giocheremo Contro Sassari Che ha il cerchietto Della Coppa Italia Ha vinto L'anno scorso Per cui è anche Una verifica Della squadra Per capire Che disvalore c'è Tra una squadra Abituata a vincere Sassari È una squadra Che si trova Meritatamente A giocare A Final Eight Ma che non aveva previsto Questo percorso Per cui non vogliamo Cambiare il nostro percorso Ci vogliamo godere Vogliamo aprire un file Io ho detto Abbiamo creato un file Lo apriremo a febbraio Lo vogliamo aprire Ce lo vogliamo godere Tutti intere Vogliamo prendere il massimo Da quel file Che apriremo Perché poi Ci servirà Per guardare Al futuro Quindi credo Che sia un premio Sia un momento Di crescita Sia un momento Di verifica Sia un momento A se stante Però Perché il campionato È diverso Dalla Final Eight Quindi non ci prendiamo I buoni e non buoni Di quello che avverrà Ci prendiamo Quello che abbiamo Guadagnato E lo chiudiamo Lo apriamo E lo chiudiamo Nel momento in cui Finiranno le Final Eight Benissimo Noi ringraziamo Infinitamente Coach Cesare Pancotto E la Vanoli Cremona Augurando naturalmente Un in bocca al lupo Per il proseguo E un saluto Un ringraziamento Da Raffaele Baldini Per Basketnet Grazie a tutti